I commercianti di Corso Umberto a confronto con il commissario Priolo. Questo pomeriggio gli esercenti di Piazza Castello hanno incontrato il numero uno del comune per poter trovare una soluzione a rilanciare il commercio. E dall'incontro è arrivata anche una soluzione temporanea, l'apertura di una bretella che collega via circonvallazione con Corso Umberto. Ci sarà un incontro con la Gocepa per vedere la risoluzione del problema. Se questo non avviene si tenterà dopo un mese di poter almeno aprire una bretella che collegherà via circonvallazione con Corso Umberto I. Saremo non pedulanti, non saremo pressanti, ma vorremmo chiaramente che questo problema si risolva. E il commissario ci ha dato una certa sua assicurazione in merito. Abbiamo chiesto a viva voce al commissario di impegnarsi, di sforzarsi, di avere uno sforzo amministrativo per la riapertura della piazza. Devo dire che il commissario si è dimostrato molto disponibile nei nostri confronti e probabilmente tenterà di trovare delle soluzioni utili almeno a riaprire la circolazione stradale sulla suddetta piazza.